Il merito ce l'hanno sempre loro, credo. Una squadra fortissima, è un peccato che siamo rimasti lì nel secondo senso, giocando bene e non possiamo riuscire a mantenere il livello alto. È difficile contro una squadra così perché non puoi sbagliare, non puoi dare una faccia. Ma non è facile perché loro quando hanno scelto una squadra in testa è veramente difficile. Infatti adesso dobbiamo pensare a questa partita nel passato e adesso pensiamo a Bergamo, una partita in sostanza in casa e da prendere tre punti contro loro. Quindi andiamo avanti, ci carichiamo e subito pensare alla Bergamo prossima. Grazie a tutti.